Dopo anni di impegno e duro lavoro, è arrivato il momento di concederti meglio e di offrire alla tua famiglia uno stile di vita all'altezza dei tuoi sogni. Questa prestigiosa villa a Montorso Vicentino è il premio che meriti, un rifugio di lusso dove ogni dettaglio è stato pensato per garantirti un'esperienza di vita senza pari. Immagina di rientrare a casa ogni sera sapendo di aver costruito con sacrificio e determinazione un futuro solido per te e i tuoi cari. Questa villa è il simbolo tangibile di quel traguardo. Varcando la soglia ti accoglie un'atmosfera di eleganza dove i pavimenti alla veneziana riflettono la tua dedizione per le cose belle della vita. La cucina collegata alla sala da pranzo diventa un luogo dove convivere momenti preziosi con la famiglia, tra risate e profumi che riempiono l'aria. Il salotto signorile ti invita a rilassarti, circondato da dettagli che parlano di un gusto raffinato e senza tempo. Completa al piano terna un elegantissimo bagno a servizio della zona giorno o degli ospiti e un bagno lavanderia con una comoda stanza che potrete usare anche come studio. Salendo le scale in marmo accedi alla zona notte, un vero santuario di pace. Le camere con parquet ti accolgono con un calore offrendo a ognuno il proprio spazio personale dove rilassarsi e ricaricarsi. Vi è presente un bagno comodo per tutta la famiglia con la vasca, una cameretta, una seconda camera matrimoniale e un'altra camera matrimoniale. E infine un grazioso gioiello, la suite padronale con il suo bagno privato. Ma c'è di più al piano interato, ecco la taverna. Un luogo speciale per organizzare cene con gli amici o festività natalizie. Ed ecco il giardino. Con i suoi 500 metri quadri è un mondo di possibilità. Un luogo dove i bambini possono giocare liberamente, dove potrai allestire anche una piscina per rendere ogni estate indimenticabile. Inoltre completa la proprietà questo porticato bellissimo in legno e questi due garage dove possono starvi persino 3-4 macchine. Montorso Vicentino offre il meglio della vita residenziale, una comunità sicura e tranquilla, dove puoi vivere ogni giorno con la consapevolezza di aver scelto il meglio per la tua famiglia. A pochi minuti dal centro hai accesso a tutti i servizi essenziali, scuole, negozi, ristoranti, centri sportivi. Questo è il tuo momento. È il momento di regalarti tutto ciò che meriti. Lascia che questa villa diventi la cornice perfetta per il tuo futuro. Clicca il link in descrizione per fissare subito una visita, prima che sia troppo tardi. Da Marco Market Immobiliare, questo è tutto. Ci vediamo a Rogito. Ciao! 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 Ciao!